Musica Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento con le previsioni per questa domenica Il dominio dell'anticiclone subtropicale continua da nord-sud, si prospetta un weekend ancora una volta molto stabile e soleggiato con temperature di molti gradi oltre le medie del periodo, qualche nota instabile solo a nord, sull'arco alpino e localmente, molto localmente sul Piemonte In Abruzzo la settimana si concluderà col sole, un clima da piena estate, avremo cieli sereni su tutta la regione Temperature massime in ulteriore aumento, fino a 30 gradi negli aree del primo entroterra, qualche gradi in meno lungo le coste grazie a debolissimi venti di brezza Il caldo si farà sentire anche in montagna, nelle aree più interne, l'Aquila una massima di 26 o 27 gradi Ma nel tardo pomeriggio non escludiamo qualche picco di 28 gradi Le minime stazionarie tra i 14 e i 19 e i 20 gradi Venti deboli a regime di brezza Grazie per essere stati con noi e a tutti voi una buona giornata Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni